Il campione a Prato Oggi un ospite di eccezione Con noi Stefano Baldini Che qua oggi, anzi la prima domanda È proprio questa Come mai oggi a Prato Stefano? Perché questo negozio È un cliente privilegiato Di una notte azienda giapponese Che mi sponsorizza E quindi chiaramente io ogni tanto Vado a trovare i nostri clienti migliori E ho approfittato di questa occasione Anche per fare altre cose Tipo una corsetta Con chi ha voluto farlo Assieme a me Ed eravamo in diversi E poi anche per Insomma una cena E stare tutti insieme Avendo anche un momento benefico E quindi insomma tante cose in una E passare una bella mezza giornata In Toscana Cosa che ultimamente mi accade spesso E che faccio molto molto volentieri Perché è insomma una regione Che mi piace A cui sono molto legato E a cui voglio molto bene A proposito di corsette Sei riduce dal Giro degli Etruschi Del 23, 24 e 25 aprile Com'è andata? Direi abbastanza bene Io ho dato soltanto le partenze Ho fatto le premiazioni In realtà per me è stato Molto vacanza e poco impegno C'erano quasi 200 iscritti Le tappe diciamo ormai consolidate E abbastanza spettacolari Io ne avevo sentito parlare tanto Ma in realtà era la prima volta Che andavo a vederlo E insomma Campiglia E Piombino E San Vincenzo Insomma Ormai un'organizzazione Che si è abbastanza collaudata E la gente è andata a casa Molto felice Si parla di maratone Gli italiani dopo questa prima parte Delle maratone Che si sono svolte Soprattutto in Italia Milano Treviso Eccetera Come li vedi? Quelli di alto livello dici? Beh è una fase Interlocutoria Diciamo così Soprattutto al maschile Abbiamo Ruggero Pertile Che si è riconfermato Su buoni livelli Sui suoi Considerando che ha corso a Milano In due ore undici Con una giornata climaticamente Sfavorevole E sarà il nostro uomo Per i campionati mondiali A Daegu All'inizio di settembre Nelle donne Va un po' meglio Perché Insomma abbiamo Diverse ragazze Che hanno corso abbastanza bene Vabbè hanno incerti Ha fatto il personale In Giappone a gennaio E poi Ha fatto il personale Anche sulla mezza maratona Con l'incendro a Roma Ostia Insomma A cui Rosalba Console Ha corso ancora sotto le due ore e trenta C'è un po' di movimento anche A livello Non diciamo giovanile Però Con ragazze che hanno Intorno ai 25 anni Che in prospettiva Sono delle buone E maratonete Non è così invece al maschile Dove Sì si sono Così cimentati Sulla distanza Questa primavera Alcuni ragazzi Di prospettiva Come Bona Come Scaini Che ha fatto un esordio Di 2.16 A Treviso Bona 2.14 Sempre a Treviso Insomma però Pensando a livelli di eccellenza Insomma siamo un po' lontani È chiaro che Abbiamo una grande tradizione Il confronto Purtroppo lo facciamo sempre Con la nostra tradizione E con la nostra storia A Boston si è corso Sopra appena le 2.03 Anche se il record E poi non sarà omologato Ma siamo su un altro pianeta Per questi atleti Siamo su un altro pianeta Vabbè sicuramente aiutati Da una giornata climaticamente Molto favorevole Però Il Kenya e l'Etiopia Ormai corrono stabilmente Intorno alle 2.05 E Con punte Di 2.04 A Londra ad esempio E sotto le 2.04 Abbondantemente In quel di Boston Penso che in futuro Dovremo abituarci A questo tipo di prestazioni Intanto perché Il Kenya offre Ha un'offerta Di atleti E un continuo turnover Con ragazzi Di altissimo livello Questi di Boston Sono personaggi Da meno 27 Sui 10.000 E sotto i 13 minuti Sui 5.000 Quindi Insomma non è matematica Però Potendo contare loro Su dei grandi numeri È chiaro che Tutti ci provano E qualcuno poi arriva E penso che abbiano ancora Dei margini di miglioramento Perché Dal punto di vista Dell'allenamento E dello stile di vita Hanno ancora Diverse cose Da perfezionare E quindi penso che In futuro Ci si avvicinerà molto Alle due ore Credevo ci si mettesse Un po' più di tempo Ma se pensiamo che Nove anni fa Nel 2002 Il record del mondo Era appena sotto le due ore 6 Fatto a Londra da Cannucci Insomma Tre minuti nel giro di nove anni Adesso questi tre che mancano Alle due ore Sono un po' più difficili Però Però Questi lasciano intravedere Davvero un futuro Un futuro Che sembra incredibile Ma che incredibile non è C'è una possibilità Di recuperare Secondo te Questo gap Fra gli atleti africani E gli atleti europei? Eh Sarà sempre più difficile Sarà sempre più difficile Perché Il dominio africano Africano È sempre Più Più esteso E Sono oltre 90 Ogni anno Gli atleti africani Nei primi cento Delle classifiche di maratona E C'è qualcuno Che corre forte Ma molto forte E Mi viene in mente L'americano Ryan Hall Che aveva già due ore 6 di personale Che Ha corso sotto le due ore 5 a Boston Oppure Il brasiliano Dos Santos Ma sono veramente Delle mosche bianche E Oggi siamo noi Il terzo mondo Per quello che riguarda La corsa Dopo che la IAFA Ha investito Tanti soldi Per lo sviluppo Dell'atletica Nei paesi africani Oggi Dovrebbe Per assurdo Invece Tornare ad investire In Europa E negli Stati Uniti Dove Le corse lunghe Sono Invece Ad appannaggio Di grandissime quantità Di amatori Che dal punto di vista Salutistico Fanno qualcosa Di molto bello E molto importante Ma che dal punto di vista Dei risultati Non ci porta Diciamo Atleti Con la Quelli che voi Vanno a fare Le grandi manifestazioni Internazionali Con la maglia azzurra E quali sono I prossimi impegni Di Stefano Baldini Ma io sono rimasto Nell'ambiente Dopo che ho smesso Da sei mesi E Sono diventato Un collaboratore Della FIDAL Già Sia a livello giovanile Che a livello Di squadre Dei grandi E Però devo ancora studiare E fare tutto L'altra fila Della formazione Tecnica Per poter diventare Anche allenatore Il che Non vuol dire Necessariamente allenare Ma sapere di cosa Stiamo parlando Quando ho una conversazione Con un tecnico Non che Non lo sappia Ma Insomma È meglio Affinare Ed andare a scuola E poi Vabbè Collaboro con un po' di aziende Con dei tour operator Che portano in giro Per il mondo Gruppi di maratoneti E poi E poi faccio Faccio formazione In alcune aziende Insomma Faccio un po' di tutto Ecco La cosa non mi annoia E Ho anche un po' di tempo libero Giustamente Dopo che per tanti anni Insomma Ho fatto l'atleta a tempo pieno E sono stato parecchio Lontano da casa Una volta Dismessa L'attività agonistica Il tuo impegno Con l'atletica Continua comunque Con vari progetti Con la federazione Uno dei quali Ad esempio Progetto Tutor Sì Progetto Tutor È già iniziato nel 2010 E ho aderito molto volentieri Perché In realtà È un impegno Diciamo Non costante Ecco Saltuario Siamo io Fabrizio Mori E Gabriella Dorio Fungiamo un po' Da angeli custodi Di un gruppo di ragazzi Promettenti E talentuosi Che hanno Dai 17 ai 19 anni E Siamo un po' In raccordo Tra Atleta Tecnico Società Famiglie Scuola E federazione di atletica Questo perché Non vogliamo disperdere I talenti che abbiamo Che non sono tantissimi E Ai quali Vogliamo dare un supporto Per far sì che riescano Da qui in avanti A tirare fuori Il meglio Delle Delle loro possibilità E Lo scorso anno Ho già avuto degli ottimi risultati Proprio anche a livello personale E Quest'anno Sta andando Altrettanto bene È chiaro che Questo è un progetto Dal quale Nel quale si entra E dal quale si esce Perché Una volta Poi compiuti I vent'anni Quando si diventa Senior E chiaramente Poi Ognuno prende la propria strada E Lo consideriamo grande Prima Cerchiamo di dare Il massimo del supporto E sicuramente Entreranno Dei ragazzi Che Dalla categoria Allievi Passeranno A quella Juniors E che avranno dimostrato Potenzialità Quindi A maggior ragione Adesso che sei Dall'altra parte Della barricata Quali pensi Siano i mezzi Gli strumenti Per fare promozione Per l'atletica Che cosa può fare La federazione Per trovare Un nuovo impulso A questa attività Beh Sicuramente Avremmo bisogno Di Atleti Che facciano Da traino Io faccio quello che posso Ormai ho smesso E in realtà Vengo ancora considerato Un uomo immagine Ecco del nostro sport In realtà Fanno molta più immagine Quelli che sono in attività E che fanno risultati In questo momento Facciamo molta più fatica Però adesso Rispetto a una volta A concretizzare Anche perché L'atletica È Universale Tutti i continenti Esprimono grandi atleti Ed è sempre più difficile Salire su un podio Per questo motivo Bisogna cercare Di fare promozione Anche in altri modi Migliorando Magari quelle che possono essere Le strategie di marketing Perché oggi Soffriamo anche Una Problematica economica Di un certo livello Cioè Il contributo Che il CONI Dà Alla FIDAL Diminuisce Di anno in anno E Quindi Le risorse Vanno trovate In un altro modo E oggi sappiamo Che senza soldi Non si va da nessuna parte Non si pagano le persone Che stanno sul campo Non si ha uno staff tecnico A livello nazionale Motivato E soprattutto Dobbiamo cercare Di migliorare Un po' L'immagine Di quest'atletica Che sembra essere Un po' Un po' Vecchiotta Ecco Diciamo così Dobbiamo un po' Modernizzarla Diciamo a un po' E poi E poi Diciamo a un po'